C'è un'ultima cosa, se con la stand up andasse male siete stati assunti da ketchup Ma quindi esiste, questo sei tu, questo sei tu, va bene, di questo gesto terremo conto Non era scontato Signori e signori, Valerio Lundini ed Edoardo Ferrari, un applauso Buonasera Buonasera, buonasera a tutti Benvenuti al secondo incontro di Avrei questa idea, format di Giphoni Hub Al quale chiediamo un applauso, buonasera, buonasera a tutti È la seconda puntata Esatto Ci hanno appena portato un microfono in più Sì, noi siamo due persone Sì, bravo, ecco, specificiamo subito questa cosa Ed Edoardo Ferrari Esatto Due artisti Sì Due persone con tanti successi alle spalle Due istrioni Ma anche due esseri umani, come hai detto te all'inizio Quando ci hai definito persone mi è piaciuto molto Siamo persone normali Siamo così, siamo tutti uguali È giusto dirlo perché abbiamo già fatto una puntata di Avrei questa idea in quel di Venezia E i quattro ragazzi che sono venuti a portare le loro idee hanno fatto delle figure pessime Perché comunque in ansia per la nostra presenza Comprensibilmente terrorizzati Quei ragazzi purtroppo hanno già chiuso col mondo del cinema perché appunto hanno sbagliato Ma è uno sbaglio che abbiamo fatto anche io e te in passato Anche noi all'epoca A vedere noi come due giganti Sì Quindi oggi cercheremo di essere un po' più all'altezza di queste persone che verranno Fingeremo, in qualche modo celeremo i commenti negativi, sprezzanti che possiamo covare Senz'altro Ma le loro idee non dovranno essere giudicate da noi Certo che no Bensì Bensì da un pubblico Dal pubblico che potrà rivedere questo video E soprattutto dai produttori Perché questo incontro nasce con l'esigenza di permettere a dei ragazzi che hanno scritto dei pitch per delle serie o per dei film Di in qualche modo veicolare la propria idea attraverso il mezzo YouTube Che comunque ricordiamo è un mezzo perfettamente efficace per veicolare le proprie idee E fare in modo che il proprio pitch venga a conoscenza di produttori televisivi, produttori cinematografici Persone che li possano rendere ricchi Perché tutto sommato è in vero forma Cioè noi ci sostituiamo un po' allo Stato In questo senso Sì, come più volte abbiamo fatto anche con la legge Con i furti che ci sono capitati a casa Esatto, giustizia privata eccetera Edoardo ti faccio io una domanda Sì Ora tu sei adulto Abbiamo la stessa età Ma se tu fossi stato, non so, un dieci anni più giovane E tu avresti avuto un'idea per un pitch Chi sono le persone alle quali l'avresti voluto sciorinare in pubblico? Cioè anziché mette Chi avresti voluto che ci fosse su queste sedie in un passato dove tu eri lì? Dieci anni fa Dieci anni fa ero un giovane ragazzo sicuramente di belle speranze Se avessi avuto la possibilità di avere un produttore Al quale raccontare la mia idea Un produttore magari come Matteo Rovere di Groenlandia Ecco, credo che sarei stato estremamente grato al destino Per avermelo portato al mio fianco Per avermi dato la possibilità di raccontare un'idea che avevo E magari sperare un giorno chissà di vederla su quel grande schermo tanto agognato Tu parli di Matteo Rovere di Groenlandia ma questo tuo sogno sarebbe stato una chimera Una cosa impossibile da raggiungere Pensa che fortuna le persone che verranno su quella sedia perché a pochi metri da loro Ci sarà lo stesso Matteo Rovere di cui tu parlavi Cresciuto, dieci anni dopo però immagino Un regista con un cognome per me difficile da pronunciare ma con un nome semplicissimo Quindi non me ne voglierete, non me ne vorrete se io lo chiamerò Matteo Ogni tanto anche per l'amicizia che ci lega Giustamente Matteo Tu invece cavatela pure tu che puoi Con l'aereo e chiamarlo anche Rovere Signor Rovere Che siamo alle medie No ti ricordi che alle medie ci si chiamava sempre per cognome Ah sì sì Ti chiamavano Ma pure adesso lo fanno Eh ah vedi Sì sì Ah te non ti dicono Ferrari No te sei più Edoardo Ferrario Sì sono più Edoardo Ferrario sì Anche alle medie Sì sì è vero Dottore Edoardo Ferrario Alcune persone hanno il nome e cognome come modo di essere chiamate Altre hanno solo il cognome Esatto sì sì Cioè io Edoardo Ferrario sì Peraltro anche il mio cognome è complicatissimo per te Per me è possibile Mi rendo conto adesso dopo anni di frequentazione Infatti sono diventato tuo amico proprio per non dire scusi Ferrario Per dirmi solo Edoardo E invece ci sono delle persone che hanno solo il nome che le rende tali Come il nostro operatore qua dietro Che si chiama Che è Tahir 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 Il cognome non ci è mai interessato No 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 Peraltro anche un cognome che si porta dietro una storia Insomma esatto Diciamo che Edoardo questa cartellina di cui tu sei provvisto Sì lo so A te non ne sarà data quest'oggi Abbiamo un agente in comune Solo che nel tuo caso è anche una moglie E quindi quando si tratta di dare la cartellina Subito A Edoardo la cartellina rigida A Valerio il foglio di carta Ma va bene Tanto chissà che a guardare non ci siano anche dei agenti Più in grado di collocarmi ecco Intro host e l'abbiamo fatta Saluti e presentazioni Saluti e presentazioni Battuta sul nome rover Lundini scherza sulla cosa Ferraio scherza sulla cosa Nomi cognome delle medie Perfetto Vogliamo chiamare qualcuno così Io partirei con il leggo primo concorrente Si legge meglio sul mio foglio che ha una cartellina dietro rispetto al tuo E partiamo con il primo concorrente Invitiamo a salire sul palco del cinema Barberini Andrea Barchiaccia Vieni Andrea Ciao Ciao Andrea No non devi Non devi Sei anche a Roma la tua città Trasferito Da quanto? Da un anno e mezzo Ah E' la tua città Da dove? Da Perugia Ah da Perugia Una regione che tu non hai E' una città Io amo Io sono umbro di adozione Ok Hai preso l'E45 Che tragitto hai fatto? Perché prendi l'E45 fino a Orte Che è ancora Superstrada Che è ancora Superstrada E poi prosegui con la 1 fino a Roma Perfetto Sei uscito a Barrera Roma Nord Dipende dove abiti però Pigneto Perfetto va bene Ci è piaciuta la tua storia Grazie Andrea Grazie E tu pensi che questo però sia un film? Sì Perugia-Roma sola andata Perugia è poco presente al cinema Hai ragione Dovrebbe essere più rappresentata Una città con tanta eroina Tu scappi per andare al Pigneto Esatto Comunque Non una grande mosse Non leggo che non è questo il film No È simile È una serie tv Il film è questo qua Sulla tua vita Sì E invece hai scritto Avresti questa idea E qui mi collego già al titolo del format Di questa serie tv Parlacene Prego Andrea Sciorinacela Quindi la parte presentazione è saltata Per me giusto Cioè mi sono presentato qua Ma tu di Tu di Vabbè Comunque No ci tengo a dire che l'ho coscritta Con Nicolò Santo Vincenzo Che è qua da qualche parte Mi osserva Ciao Nicola Faccio questa cosa terribile Di Dover parlare su un palco E lui è lì felice Nell'ombra Vabbè No la nostra serie si chiama Catch Up E parte da una domanda Cioè cosa succede Quando ci si affaccia Alla vita adulta Pieni di sogni Di aspettative Ma non si ha abbastanza talento Per realizzarli Con questa serie Noi volevamo raccontare La paura di una generazione La nostra Ovviamente Cresciuta con le aspettative Troppo alte Fin da piccoli Ci è stato detto Di essere speciali E poi siamo arrivati a 30 E ci siamo accorti Che speciali Non lo siamo affatto Minimamente E per questo Seguiamo le vicende Di Leonardo Un giovane aspirante Stand up comedian Che lotta Per inseguire Le proprie passioni Mentre gestisce Un fast food Insieme a dei colleghi Ambiziosi Irrisolti Quanto lui Leonardo ha 29 anni Una calvizia incipiente È laureato in economia Ma sogna Di fare Lo stand up comedian È costantemente In bilico Tra il genio E la mediocrità E non capisce mai Dove sta Nasconde Una paura Del fallimento Enorme Dietro Un sarcasmo Spietato E delle visioni Surreali Nei momenti Di maggiore confusione Vede tre opinionisti Televisivi Che commentano Ma era l'Italert No Ah ok Ok vado Stai bene Però Cioè Tutto Pensavo che il ministero Ti mandasse degli italert Solo a te Cioè c'è un canale Preferenziale Scusaci No c'è problema Brutto brutta Comunque no sono vivo E vabbè Quindi dicevo Che nasconde La paura di un fallimento Una grande paura Del fallimento Dietro un sarcasmo Spietato E delle visioni surreali Nei momenti Di maggiore confusione Vede Tre opinionisti Che commentano La sua vita Come fosse un talk show Un radical chic Col fulare Un conservatore In giacca e cravatta Molto serio Uno psicologo Ipersensibile Che finisce Ogni discussione Tra i tre Mettendosi a piangere Leonardo Da ketchup Dovrà capire Se ha davvero ancora senso Continuare a sperare Di fare lo stand up comedian Poi c'è Clara 25 anni Laureanda in scienze politiche Segno particolare Frida Kahlo Tattuata sul braccio Che però sta pensando Di sostituire Con Michela Murgia Perché Frida Kahlo Ce l'hanno tutte Michela Murgia no E quindi lei Vuole sostituirlo Con quest'altra Sua eroina Anche lei Come Leonardo Lavora da ketchup Ma Sogna di essere Un'icona femminista Ma a 25 anni Non ha ancora benissimo Chiaro Né chi è lei Né cosa significa Essere di fatto Un'icona femminista E quindi si perde Tra le sue mille attività Poetessa Giornalista Militante Designer Di vibratori Equasolidali Senza portare Poi nei fatti Mai a termine nulla È molto in conflitto Con Leonardo Con il quale però Si avvicinerà Più di tutti Aiutandosi molto A vicenda L'una con l'altro Poi c'è Steve 26 anni Stefano Ovviamente Si fa chiamare Steve Perché è un nerd Dell'iTech Una di quelle persone Che anche L'elementari Si è già bullizzato Dalla maestra di religione Addirittura E il suo Il suo sogno La sua ambizione È quella di ideare E vendere Start up Di successo Solo che la sua Genialata più grande Finora è un'app Per feticisti Con un Al posto di Un mi piace Un mi piede Ovviamente Nessun investitore Zero successo La sua più grande paura È quella di Rimanere da solo Ma non riesce mai A fidarsi di nessuno Forse è anche Uno dei motivi Per cui nessuna Delle sue idee Finora ha davvero Avuto successo Ultimo ma non ultimo Alfredo Lo chef Del fast food 65 anni Sussurrati molto piano Lui è stato Uno stimato Critico d'arte Che ha sempre Sognato di fare L'artista E quando la cucina È esondata Nelle televisioni Ha detto Questa è la mia occasione Ha aperto un agriturismo 5 stelle Fallito Nel giro Di un amen Ed è da ketchup Per ripartire È un megaloman E vizioso Cucina nel suo Unico completo Darmani Rimastogli E forse Da ketchup Dovrà fare i conti Col fatto che Non è più Il giovane Indistruttibile Di un tempo E al massimo Oggi può essere Un secondo violino E mai l'artista Lo chef capo Che voleva L'arena della serie Come avrete capito Immagino È chiaramente Il fast food Ketchup All'apparenza Ha un fast food Come tanti Ma In realtà Di puntata in puntata Si fa palcoscenico Di quelle che sono I progetti folli Dei protagonisti E quindi Non è inusuale Che la giornata Cominci con Un gruppo Di lettura Per donne incinta Organizzato da Clara Nei bagni del fast food Che una di loro Partorisca Non è inusuale Che la giornata Si chiuda Con una festa Fetish Organizzata Per promuovere L'app di Steve E Anche se la serie Non è tutta Diciamo Pensata Dentro Per forza Solo il fast food È una serie Che si muove Un po' Alla the office A livello di struttura Quindi che si sviluppa Sia per casi Verticali Di puntata Ma anche Orizzontalmente Seguendo Quelle che sono Le vite Le vicende personali Dei personaggi E Il tono È chiaramente Un tono Comico Certo C'è di mezzo La stand up Che non vorremmo Però che fosse L'unico elemento Anzi Sappiamo bene Da amanti Della stand up Che è un tipo Di performance Che essenzialmente Va ruita live Però È sicuramente Intende Vorrebbe essere Una parte Della comicità Ma la vera comicità È un po' Tutto il resto Tutto quello Che ha a che fare Con i personaggi Di Kei Quindi Le loro debolezze Le loro assurdità Le difficoltà Con i clienti Ma soprattutto L'impossibilità Di vedersi Per ciò che si è Perché Mentre loro Combattono Ardentemente Fortemente Per quelle Che sono Le loro passioni In realtà L'unica cosa Che funziona È la gestione Del fast food Nessuno Ce lo sarebbe Mai aspettato Di loro Eppure Se si trovassero Bene Anche solo Girando hamburger Cosa è meglio A quel punto Realizzarsi A tutti i costi Inseguire Delle aspirazioni Che sono diventate Solo una fonte Di malessere Oppure Accettare Di aver trovato La felicità In qualcosa Che non si è mai Sperato Il fast food Funziona bene Fast food Gira abbastanza bene Sono bravi Con quello E tutto il resto Quello che vorrebbero fare Che va Molto male Bene Grazie Andrea Grazie a voi Grazie Io faccio sempre Un appello Produttori Se siete Frettolosi Nello spendere I vostri soldi Puntate Su Andrea E non ascoltate Quelli dopo Grazie mille Grazie Se invece siete pazienti Dategli Un quarto Delle vostre chance Ma che valore ha La pazienza Io sono d'accordo Con te Vedi Quindi Questa è una bella riflessione Che facciamo oggi Qua sul palco Di avere questa idea Che valore ha La pazienza oggi Senti Io ho una curiosità Quanto c'è di autobiografico In questa serie Cioè Tu sei Hai lavorato in un fast food Sei stand up comedian Hai sviluppato Quella app Di cui parlavi prima Dei piedi Quali sono le tue Quella Sì No Sì abbastanza Nel senso che Diciamo che è stata ispirata Da quello che abbiamo intorno Insomma Dai nostri amici Dal Dal quartiere in cui viviamo Pigneto appunto Dove Ci sono più aspiranti Artisti E artisti Che Ormai cittadini Che ci abitavano da prima E anche dal guardarci allo specchio Cioè in realtà Ci siamo guardati un po' Allo specchio con umiltà E abbiamo detto Cioè comunque Sì Ci abbiamo 30 anni Ci abbiamo dei presunti talenti Abbastanza più presunte Mediocrità E siamo qui E quindi Ci sembra qualcosa Che fa molto parte Della nostra generazione Il voler lavorare Con dei lavori creativi Dove C'è sempre però Uno spazio Non è enorme Non è facilissimo E Volevamo raccontare Quel mondo Che conosciamo Abbastanza bene Quindi anche un po' Autobiografica Io ho lavorato Come fattorino Che consegnava le pizze Poi Una notte A Perugia c'è un Bria Jazz Che è un festival Molto grande Che è molto trafficata Quindi Perugia In quel periodo E ho sognato di notte Che stavo consegnando le pizze Rimanevo imbottigliato nel traffico E ho smesso Di fare il fattorino È bastato così poco? Sì È stato un incubo Terribile Poi hai eseguito un sogno Sì Esatto Stranamente Particolare Andrea in bocca al lupo Viva il lupo No fidati Crepi Il lupo Guarda Ma hanno anche detto Viva la lupa Ma hanno detto Qua a Roma Ah perché è Roma Hai chiesto su chat GPT Cosa si dice a Roma E ti ha detto Viva la lupa Non si dice Non è Non è caso Andrea E allora ci vediamo dopo Con piacere Ok Grazie mille Grazie Un applauso ad Andrea C'è un'ultima cosa Che cos'è? È un gesto da pazzo Che cos'è? Se con la stand up Andasse male Siete stati assunti da ketchup Anche Ah vedi Ma quindi esiste Questo sei tu Questo sei tu E questo sono io Va bene Molto belli Grazie Di questo gesto Terremo conto Non era scontato Non preoccupare Ciao Andrea Grazie mille Grazie Andrea Va bene Oh addirittura No no Ma era ipo E' iperglicemia L'hai aperto? Se fosse stata ipo L'avrei usato Ci sono 50 euro dentro Se lo apri Nel tuo no Nel mio no Perché si deve essere consultato Con Cecilia A posto Allora Proseguiamo Io Allora Ci sarebbe Mario Lazzaretti Ma no Non lo chiamiamo No Chi se ne frega Saltiamo Perché sono troppi Facciamo No no Hai ragione Mario Lazzaretti saltiamo Scusaci Chiamiamo Vogliamo chiamare cosa Giulia Che c'è? Che è un film Una serie? Una serie? Sì dai Chiamiamo Giulia Betti Giulia Betti Vieni sul palco Ti avrei questa idea Ciao Giulia Ciao Giulia Prego Giulia Allora Mi avete già presentata voi Sono Giulia Betti E siccome mi hanno insegnato Che un buon pitch Inizia sempre con una domanda Però la mia non è retorica È proprio per voi Cioè è una domanda per voi Quindi rispondetemi Per favore Se fossi chiamati a scegliere Tra queste tre attività Fare una dieta ferrea Iscrivervi in palestra Ma seguirlo poi L'abbonamento Cioè andarci O fare moltissimo sesso Così Veloce però Fare la dieta Perché io non seguo Nessun obbligo Di quel tipo A palestra Ecco Benissimo Benissimo Il mondo è bello Perché Vario La mia protagonista Invece è la protagonista Di questa serie Che si chiama Una ragazza leggera Dal titolo si capisce Ha scelto Fare moltissimo sesso Sì è nata così Tornerei però Un po' al principio La serie inizia Con Cassandra Cassi Per gli amici Che a 18 anni Frequenta il liceo alberghiero Cassandra ha tantissime qualità Oltre a essere Per esempio bravissima Nella sua classe di cucina Ma nessuno se le ricorda Nel senso lei L'associano a Un'etichetta È la ragazza grassa Della quarta D Per tutti Quindi tutto il resto Che si potrebbe dire di lei Non viene mai Mai citato È stanca di questa etichetta? Sì Vorrebbe dimagrire Pure Ma le strade che conosce Sono due sostanzialmente Mangiare meno Mangiare meglio No Lei ama il cibo Il cibo è la sua fonte Di velocità estrema E quindi non può rinunciarvi Fare sport Sarebbe molto molto utile Ma anche quello Una ragazza come lei Con la sua corporatura Sa bene Che se si mettesse A fare sport Ci sarebbero risatine Ci sarebbero commentini Come per esempio Durante le ore di educazione fisica Quando non riesce a fare la pertica O si incastra nel quadro svedese Quindi anche lo sport Lo mette da parte Non ha altre soluzioni Quindi dice Ok sarò per sempre La ragazza grassa Della quarta D Poi della quinta D Poi dell'università E così per sempre Un giorno però Tornando a casa Scopre che sua madre Rosa Ovviamente Magrissima Lei ha preso dal padre Ha deciso di andarsene di casa Di lasciare sua figlia E suo marito Per due motivi sostanzialmente Il primo Perché si sente l'aliena In questa famiglia Rosa dice Io non mi riconosco In questo gruppo Voi siete identici Per carattere Solari Con uno spiccato humor Sicuramente anche Termini genetici Ha preso più dal padre Cassandra Infatti suo padre È gravemente obeso Purtroppo E quindi Rosa dice Me ne vado Ma c'è un altro motivo Dice Ho ripetutamente Tradito Tuo padre Quindi mio marito Ma non per colpa mia Probabilmente Sono un infomane Qui Da qui nasce tutto Perché Pietro Il padre di Cassandra Che anche se sta soffrendo Moltissimo in quel momento Com'è ovvio Riesce sempre A esorcizzare la situazione E dirà una cosa Anche per alleviare Un po' Il trauma La figlia Dice Peccato non sia stato io Quello un infomane Tra i due Magari qualche chilo L'avrei perso E qui Cassandra Ha l'illuminazione Il sesso Il sesso è sempre stata La risposta Il sesso un po' Come il cibo Ti fa sfogare E ti dà anche felicità Insomma stimola le endorfine Lo sappiamo E ti fa sudare Cioè se lo fai bene Ovviamente ti fa anche sudare E quindi probabilmente Ti fa anche bruciare calorie Perciò Cassandra Stila una sorta di scheda Della palestra Il suo project sex Scrive ogni giorno Quante calorie dovrebbe perdere Quindi quanti minuti Di sesso dovrebbe fare E anche le posizioni Che fanno perdere più tassi E si rende conto Ben presto Che un partner Solo non le basterebbe Un ragazzo Non sarebbe in grado Di sostenere certi ritmi Quindi ha bisogno Di trovarne più di uno Ovviamente Chiede ai suoi amici Più intimi La notizia non si deve Assolutamente spargere Sarebbe un po' Sconveniente Ma trova ben presto Delle persone volontarie Per aiutarla In questo project sex Fare moltissimo sesso Per dimagrire Come per esempio Il suo ex fidanzato Nonché il miglior amico Yuri Che in questo momento È fidanzato con Marika Che fa il primo anno Dell'alberghiero Ma è una ragazza Molto credente Lei non vuole fare sesso Ma neanche i preliminari Quindi Yuri Ha qualche problema In qualche modo La richiesta di Cassandra Aiutare un'amica Insomma È importante aiutare gli amici E non essendoci Implicazioni romantiche Non è vero tradimento E quindi Yuri L'abbiamo preso Un altro è per esempio Samir Che verginello Ma è innamoratissimo Della più sveglia della scuola La quale Se mai riuscisse Effettivamente a parlarle Scoprisse che lui è vergine Probabilmente si Taglierebbe le gambe In quel momento E come loro Tanti altri Trovano nel progetto Di Cassandra Effettivamente Un'utilità anche per loro Ovviamente Sempre suoi amici Le cose vanno benissimo I primi mesi Cassandra dimagrisce Non si abbuffa Neanche più Perché ovviamente Il sesso Appunto perché stimola Le endorfine Non la porta Neanche a cercare Con quella voracità Il cibo Come faceva per esempio Di notte Anche a casa Le cose vanno meglio Perché il padre Dopo un momento Insomma ovviamente Di down emotivo Ha iniziato a guardarsi intorno E si è accorto Per esempio Che in ufficio Ha sempre avuto Una simpatia Una ragazza Che una signora Più grande di lui Vedava Che trovava simpatica E quindi inizia A uscirci insieme Cassandra è molto serena Anche perché Tiene moltissimo A suo padre Che è un essere fragile Secondo lei Tutto va benissimo Tranne per il fatto Che Cassandra si rende conto Che è un po' cambiata In questi ultimi tempi Nel senso che sta diventando Un po' addicted Come succede Ai palestrati neofiti Cioè ne vuole di più Ha bisogno di accelerare Di fare più sesso Di farne di più Di trovare ancora più miglioramenti Ma i ragazzi Che ha già arruolato Non ce la fanno A starle dietro Quindi deve trovare Altri partner Ma siccome la notizia Non si può diffondere Va a cercare sesso Dove lo cercano tutti Su Tinder Ovviamente Su Tinder però Paradossalmente Lei troverà l'amore Perché incontrerà Un ragazzo Emilio Iscritto ovviamente Su Tinder Che è uno studente fuori sede Con quest'ultimo Inizierà ad uscirci Ma per una serie Di avventure rocambolesche Tutte le volte che si incontrano Per un motivo Per un altro Non riescono mai a quagliare Tu dici Cambia partner Devi cercare qualcun altro Per fare sesso In realtà Un po' questo ragazzo Qualcosa le smuove Ovviamente Lei che innamorarsi Proprio Non è il suo caso Non crede nell'amore Anche a causa Del matrimonio disastroso Dei suoi genitori E quindi si ritrova Un po' spiazzata Diciamo Di fronte a un bivio Continuare per il project sex Una cosa che sta facendo Da sola Per se stessa Dove pensa solo a lei Al suo obiettivo Oppure fare una scommessa Con l'amore Cosa in cui non crede E che sta Che porta sempre Vedendo il padre Turbamenti In questo momento Di crisi Non si accorge Che in casa sua Le cose stanno cambiando Ovvero che sua madre È tornata Supplichevole A chiedere il perdono Di suo marito E di essere ripresa in casa E lui Ripiomba In questa relazione tossica Quindi Perde l'occasione Di portare avanti La relazione sana Con la collega E ritorna In qualche modo Nelle grimpie Di questa donna Che l'ha sempre Molto manipolato Cassandra è delusissima È delusissima Dal padre Ma è arrabbiata anche Con la madre Della quale comunque Aveva apprezzato Il gesto Di andarsene Ok Di prendere anche Coscienza Di essere tossica Per suo marito E quindi è Veramente a pezzo Siccome piove Sempre sul bagnato Ovviamente Qualcuno ha messo In circolo la voce Che Cassandra Si sta facendo Un sacco di gente E chi l'avrà messa In giro la voce È la fidanzata Amarica di Yuri Che in un momento O di defaianza O di senso di colpa Deve averle detto Che cosa ha fatto E lei è gelosa Ovviamente Ha detto a tutti Che Cassandra Non è più La ragazza grassa Della quarta D Cassandra è la ragazza Un po' leggerina Diciamo così Magari Utilizzando anche Altri termini Della quarta D E quindi Se tutto è iniziato Per togliersi Un'etichetta Ora ne ha un'altra Ha una scarlatta Nel petto E qui mi fermerei Perché sennò Non me la guardano più Cioè nel senso Anche basta Grazie Grazie Giulia Grazie a voi Ah scusa Prego Perrei Prego prego Ma sai che quasi quasi Ma è frissante Non me l'hai chiesto Temo che abbiamo Soltanto Questa modalità Di acqua Andava detto Io ho una digestione Molto difficile Ecco parliamo Del tuo rapporto Col cibo Come ti è avvenuta Questa idea Allora Ovviamente Nella mia adolescenza Cosa un po' lontana Ormai Ho avuto Dei difficili rapporti Con il cibo Ho un po' estremizzato Quello che mi è successo Io ho avuto Un percorso Da tutt'altra parte Ma sono stata La ragazza grassa Della prima Seconda Terza Quarta Quinta Poi prima Tutte le elementari Diciamo che Nel percorso In realtà Del liceo Ero diventata Esattamente l'opposto Ma a me serviva Invece Questo tipo di personaggio Qui Quindi ho fatto Tesoro Di quelle che sono state Le mie esperienze In un'età diversa Non ci potevo mettere I ragazzini Insomma in Italia Ci potevo mettere I ragazzini Quindi ho detto Facciamo Spostiamo Gente maggiorenne Siamo in Italia Non è che tipo In America Metti i ragazzini Credo ci siano anche Dele legge Oltre a essere in Italia Ci sono leggi Sovranazionale Esatto No e quindi Non ci hai voluto Metti i ragazzini Ci abbiamo messo Però la finanzata Marika È il primo anno Di liceo Fatti Marika Non fa niente Ci manca Marika Marika è bravissima Fino a 18 anni Nulla E quindi Beh io e Valerio Lundini Possiamo confermare Che la dipendenza Da sesso È una brutta bestia Ne siamo usciti Dopo anni Abbiamo fatto un percorso Anche noi Sì sì Poi per chi come noi Ha iniziato a 12 anni Sì Hai capito I ragazzini Sì 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 No no È vero solo nel suo caso Che andava a scuole ricche Io ho iniziato pochi mesi fa Sì E ha un'iniziativa finita Senti Una curiosità Siccome non si possono mai Far vedere i social network Nei film È molto difficile Che insomma Si possa utilizzare un brand Come vorrai chiamare Quello che poi sarà Tinder Dagli un bel nome Ti prego Perché se no Nei film si vedono sempre Quelle cose Base fuck Capito Ma dovremmo dire così Ma aiutatemi voi No pensaci Ah ci penso Perché è una cosa fondamentale X ha già usato Y Y Va Vabbè anche X Non so se me lo vedo Sto film Se c'è Y Tipo Love match Conosciuto sto riscallo Su Y Non lo so se funziona Quindi Lella Lei è la ragazza Cassa del quarto Quarta D O della quarta D È un classico No Perché al liceo da me Faceva sempre ridere Il quarto D Perché sembrava una bestemmia Quarto D Sì Tu in che sezione stavi Io stavo nella Però nel classico La quarta È un'altra cosa Io e Mattarori in D L'ho andato in D Quindi ecco come Come l'hai L'hai fatto venire qui Con questo ricordo Ti ricordi E l'ho convinto È bastato questo Dicevi? No che se non ricordo male Al classico Quarto È un'altra cosa Ah già c'era quella cosa C'è stata quella cosa Incomprendita Quarto gennaio E certo E torniamo ai bambini E torniamo ai bambini Che io terrai fuori Se la dobbiamo Da questa narrazione Ma solo perché siamo nel Lazio Guarda Sì sì Già se ti sposti i numeri Giulia Ti auguro un in bocca Allo stesso lupo Di barcaccia Che avrà meno fame Che avrà meno fame Ok Va bene così Grazie Giulia Ciao grazie mille È stato molto bello Grazie Grazie Allora Saltiamo Federica Stefanacci Che la storia sua Non mi interessa proprio Lascia perdere Via Emanuele Falbetti No per carità Via via Chiamo quello dopo Proviamo con un film Sì Se qualcuno ha un film Ti dico solo questo So dove vuoi arrivare So dove vuoi arrivare È il momento di Francesco Traina 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 Ciao Francesco Adesso però ci dirà lui Se invece È Traina Come Giacomo Traina Non è Traina No no Perfetto C'è un mio amico Che si chiama Giacomo Traina Ciao ragazzi Benvenuto Grazie mille Ciao a tutti Io sono Francesco Traina Vi porto un film O meglio Una trilogia in realtà Magari una fortunata trilogia Perché reputo ci sia Tanto da parlare Ci siano molti rilanci Ora vi spiego Ciuri Ciuri È stata scritta Da Luigi Storti Che oggi non è qui Quindi lo salutiamo Ciao Luigi È da Barcaccia Che volevo incrociare Ah Barcaccia Cioè Barcaccia Si è fatto due pitch Se devo dire A Sanremo Hanno scritto cinque canzoni Che vero Volevo complimentarmi Però L'ho visto che scappava Tornava a Pirugia C'è un carico di eroina Che dovevo portare Quindi non È vero che l'ha scritta Barcaccia con te È vero Barcaccia È un simpatico Questi sono gli Umbri Gli Umbri fanno così Barcaccia è già Vabbè Bravo Barcaccia Bravo Barcaccia È uguale a quella di prima Siamo in un fast food Peggio Perché Francesco C'è comunque Francesco c'ha quello Sì esatto Voglio fare la stand up comedy Molto peggio Siamo in Sicilia Quindi Anche la mia serie Parte da Una domanda Cosa succederebbe Se tre videomaker Squattrinati Si ritrovassero a girare Un film per la mafia Turi, Saro e Melo Sono tre aspiranti cineasti Che lavorano come videomaker Per un piccolo studio Di video per matrimoni Ed eventi in Sicilia Appunto il Ciuri Ciuri In questa Sicilia Fin troppo lontana Dalla realtà cinematografica Alla quale aspirano i tre La loro routine statica E priva di qualsiasi tipo Di prospettiva Cambia Nel momento in cui Gli viene proposto Di girare un film Per il pericoloso Ed ecocentrico Boss mafioso Don Ciccio Privitera Al fine di promuovere Il suo potere malavitoso I tre fanno la conoscenza Di quest'uomo Proprio al matrimonio Della nipote E proprio all'evento Le loro riprese Rivelano Un incontenibile Estro artistico Ognuno Esprime la loro individualità Attraverso Riprese autoriali E totalmente inadatte Ad un filmino Di matrimonio Di paese Turi Impegnato Riflessivo Appassionato di Bergman Costruisce queste inquadrature Appunto Filosofiche Saro invece Patito Di film Di serie B Architetta Delle 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 coreografie Folli Coinvolgendo Gli anziani invitati Melo invece Si tuffa sul buffet Sulle donne Lascia sbrigare Tutto il lavoro Agli altri due ragazzi Chiaramente il risultato È un caos Incoinciliabile Di Elementi Che appunto Infastidiscono I clienti Ma soprattutto Virginia La loro Wedding planner Solo un uomo Però È in grado Di apprezzare Il valore Di questi tre Proprio Il boss Don Ciccio Che Ammirandosi Ripreso All'interno del filmino Di soppiatto Di spalle Prende una decisione Lui ha bisogno Di un film Che celebri Il suo potere Maleditoso Al fine di rientrare Nelle grazie della cupola Che invece Tenta di farlo fuori E di riprendere L'eredine di una famiglia Secondo lui Allo sbando Con una moglie Ignorante Che si crede Una fantastica Intellettuale Una figlia Appena laureata In legge Di ritorno Di Milano Perché ha Intenzione Di aprire un ONG Ed un figlio Folle Patito di qualsiasi Tipo di arma Quindi sotto Il caldo Afoso Della Sicilia Durante la controora Nella piazzetta del paese Mentre i tre videomaker Sonnecchiano Nella piazzetta Davanti al ciuriciuri Un vannero si ferma Quattro individui Scendono Incappucciano i filmmaker E li porta In una sterminata Cava di Petra Pomice Proprio lì Il boss Fa loro la proposta Voi girerete Un film per me Nel momento In cui i tre Finalmente Hanno la possibilità Di realizzare Il loro sogno Le loro vite Dovranno scontrarsi Con quella criminale Chiaramente Rifiutata L'iniziale Sceneggiatura Di tre ragazzi Don Ciccio Esprime le sue volontà I tre Dovranno seguire Le reali attività Criminali Riprendendo E montando tutto Secondo le sue direttive Chiaramente Il passo è breve Perché i tre Si ritrovino presto Armi in mano Al centro dell'attenzione Sia della cupola mafiosa Che della polizia Questa malavita Però Non sembra così male Sembra dare loro Il potere Di affrontare E superare Le loro problematiche Private Turi Finalmente si sente parte Di qualcosa Saro Riesce a guadagnare I soldi Che gli servivano E Melo Assaggia per la prima volta Un potere in grado Di risvegliarlo Dal suo ozio E dalla sua negligenza Chiaramente I tre Si lasciano appassionare Da questa Miriade di donne Di denaro E di festini E da un boss Che inizialmente Sembra molto più umano Di quello che in realtà è Perché chiaramente Nel momento in cui La mafia Si rivela Nella sua Reale violenza Tocca fare le scelte Tocca fare i conti Con le scelte Che si è presi E prendere posizione Proprio per questo Non tutti Decideranno Di stare Dalla stessa parte Turi rimarrà coerente Con le sue scelte Lui voleva fare il regista Lui era un videomaker Che vuole fare il regista Da pavido Diventerà coraggioso E riuscirà Appunto A conquistare La figlia del boss Agatha Di cui è perdutamente Innamorato Grazie a questo suo Nuovo coraggio acquisito Saro invece Fratello di una vita Si lascerà Ammaliare Dal fascino Della malavita Appunto Nonostante Nonostante sia un ragazzo Legatissimo Alla legge E alla legalità Appunto Nel momento in cui Si ritrova Per la prima volta I soldi in mano Che non ha mai avuto Per cui ha sempre faticato Deciderà di prendere La brutta strada Melo invece Nel momento in cui Riassapora Il fascino del cinema E di una passione Che ormai aveva perduto E smarrito da tempo Riesce a riprendere in mano La sua vita Riesce a riprendere in mano La situazione familiare In cui Un'ex moglie Era lasciata E con una figlia in mezzo Ciuri Ciuri Parla di ragazzi Ma parla soprattutto Di compromessi Compromessi che spesso Si è obbligati Quasi ad accettare Nel momento in cui Si vuole perseguire Davvero il proprio sogno Grazie Grazie Francesco Come mai hai parlato subito Di una trilogia? Perché Secondo me c'è tanto da raccontare Ci sono tanti personaggi Che hanno ognuno Le proprie difficoltà Saro ha questo rapporto Difficile con il padre Che invece Aveva questo Questo lavoro Molto remunerativo E che è abbandonato Perché 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 è entrato In un inciucio Come si dice da me Malavitoso E ora ha un negozietto Di artigianato Che non paga il pizzo E appunto Quando suo figlio Appunto entra nella mafia Sono cavoli E poi Sì Appunto Cosa ne succederà Di questo Di questo film Cosa succederà I tre videomaker Riusciranno a diventare Registi Melo Ex attore Torna a fare l'attore Cosa succederà Lo scopriremo Quindi Produttori Se volete produrre Il nostro amico Ciuri ciuri Ah Ciuri ciuri Del nostro amico Traina Fit A questo punto Baccaccia Sappiate che dovete Sborsare il triplo Dei soldi Perché Qua si parla Di trilogie Però Se vendi il pacchetto Allo stesso tempo Può essere un'operazione Sensata Può essere un'operazione Sensata Mi spiace per il produttore Che voleva produrre Tre di voi E a un certo punto Ha detto O faccio tutto te O sacrifico due Comunque C'è un personaggio In cui ti identifichi In particolare Ultima domanda Sì Allora Sì Chiaramente Molto presa Dalla mia esperienza In quanto siciliano Penso Sì Sono siciliano Di Catania Eccomi Quindi sì Chiaramente Parla anche molto Di questa Sicilia Molto chiusa Geograficamente Oltre che mentalmente Dello sforzo Che si fa Per arrivare ai propri obiettivi Quindi Un po' più in generale Va bene Va bene Buono a sapersi Grazie mille Francesco Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Vediamo penso dopo Grazie a più tardi Diego Galuppi Ranieri Sebastianelli Via Lascia stare No Cosa aspetta O Simone Romano Carla Gaston Fratini No O Carla O Simone Carla Cosa vogliamo fare Simone C'è una serie Scritta sempre Da Barcaccia Proviamo a sentire Uno che Non ha una serie Scritta da Andrea Barcaccia Simone Romano Sale sul palco Simone Romano Prego Vi avrei questa idea A Roma Ciao Simone Ciao Simone Infatti te C'hai il tuo bicchiere Perché hanno usato Un solo bicchiere Per tutti gli ospiti Volevo fare Questa cosa Di bere in pubblico Ciao Ciao Simone Ciao Benvenuto Nella tua città No 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 Io sono di Napoli Sei di Napoli E ti chiami Romano Eh sì è strano Come Romano Prodi Che Era Bolognese Perché era? Bolognese È bolognese Ah Oddio pensavo Era Bolognese No sono tre giorni Che non avevo No no aspetta Questa cosa la tagliamo Aspetta ragazzi Quando vai in onda Se Prodi è morto Se Prodi è vivo È facile È facile Eh Guarda Mi sa che abbiamo perso Dei fondi pubblici Credo Guarda come si fa Guarda come si fa Guarda come si fa Come Romano Mussolini Anche lui era di Reggio Emilia Sì Figlio di Non mi ricordo Però fratello del E il tuo nome omaggia Proprio lui peraltro Sì 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 Della tua famiglia Famiglia sì L'avevano detta questa cosa prima È incredibile come il pubblico con te sia così caldo Come se stessi qua da più di un minuto Mentre sei salito adesso È incredibile È incredibile Quando ti diverti il tempo vola È vero È vero È vero Ma posso avere l'acqua Faccio io Certo Scegli la bottiglia No Scegli la bicchiera La bottiglia La bottiglia questa è anche la sua Quella che hanno bevuto tutti Così non è avvelenata Senti ma questo è il tuo bicchiere Questo qua mi sa che è il mio Lo sai Questo è il tuo L'ho portato io Me ne sono guardato bene Allora questo qua è il tuo Perfetto Va benissimo Vuoi dello zucchero Va bene tanto No 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 Grazie Questo è l'acqua Un tappo No 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 È la nostra città Quindi la sua serie è su Romano Brodi Sì Il compianto Il Ah No 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 Dobbiamo rifà Quindi la serie è su Romano Mussolini Giusto È una serie storica È una serie che parla di jazz Storia Pittura Crossover Pittura Sì Certo E di Parlacene Allora Ci avete presente nella vita Di chi vuole fare arte E si avvicina ai 30 Ai 40 Insomma È avanti E fai la resa dei conti Con ciò che tu vuoi E ciò che realmente potresti avere Ovvero L'incertezza Ad esempio Flavio 34 anni A breve 35 Per tutta la vita Voleva fare musicista E pure Agli occhi del mondo Pare essere invisibile Eppure lui ha tutte le carte in regola Non si capisce perché Perché lui è un jazzista Polistrumentista Dall'animo nero Però i locali sono sempre vuoti E riceve sempre Esiti negativi Dalle etichette discografiche Allora ecco che inizia a pensare Che forse questo è L'ultimo anno della sua vita In cui proverà a fare musica E che forse è il momento Di trovare un impiego qualunque Per avere una stabilità economica E forse rialacciarsi con i propri cari E questo è quello che vorrebbe Anche la sua fidanzata Chiara Di 32 anni Che è trasferito Si è da Venezia a Napoli Si è laureata in relazioni internazionali Scienze politiche E adesso sta facendo La carriera accademica Vuole fare la ricercatrice Ed è una ragazza Estremamente ambiziosa Che però si scontra Con L'estro artistico Di Flavio Che attualmente Non lo portate a nessuna parte Quindi dopo sette anni di relazioni Si iniziano a intravedere Le prime crepe E accade che Nello stesso Nella stessa città Napoli Ma in un altro quartiere C'è Emilio Omonimo dell'altra serie Tra l'altro Ma ci ho pensato Per tutto il tempo E come fate adesso? Eh mo Questa è la firma Di Barcaccia Io in tutti i miei film Metto uno Emilio Ma anche quello Non è il tuo Il maestro Barcaccia Non importa Si sente Si sente la firma Insomma Emilio Sta in un altro quartiere Insomma Emilio Che all'epoca era Compagno delle elementari Di Flavio Quindi coetaneo Condivide però Un destino simile Ovvero Pare essere anche lui Dimenticato da tutti Eppure lui viene Da una famiglia per bene Di avvocati Che però tradisce L'aspettativa dei genitori Quando prova a inventarsi Come imprenditore Ma come per Flavio Tutte le sue idee vengono ignorate Forse non è ancora il momento Del fast food solo per cani O il sushi a base di stoccafisso Insomma Lui ha trovato un triste ripiego In una frigitoria di patatini olandesi Che ormai è fuori moda Ma è l'ultima rimasta in piedi Nel quartiere Forse perché vende ancora le birre Di nascosto ai ragazzini Sua unica clientela E dunque accade che Un giorno Flavio viene invitato Alla festa di amiche di Chiara Delle borghesi Che lui odia da morire E incazzato Dall'ennesimo rifiuto Da un'etichetta discografica In questa festa che Chiara Non se lo sta affilando E anzi pare provarci Con un suo collega Alza il gomito un bar E Tra l'altro È infastidito Perché per radio E anche in questa suddetta festa Tutti cantano la canzone Di questo Albertino Un trapper Neomelodico Che non sa suonare Non sa cantare Parla solo di sesso Eppure tutti quanti Lo amano E lui non si capacita Come è possibile sta cosa Allora ecco Che ormai Solo abbandonato a se stesso Sta anche un po' al ticcio Nota dall'altro lato del locale Un pianoforte Un muro E quindi silenziosamente Si alza Va a suonare il pianoforte E ecco Che si chiude Nel suo meraviglioso mondo di musica Inizia a suonare da solo E fa Madele in meraviglioso jazz E lì da solo Con i suoi pensieri Ma la voce della gente Fa stuono E più alto anche della musica Insomma nessuno Se lo sta affilando Anche Chiara Lui la cerca con lo sguardo E l'ignora A un certo punto Suona 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 Ma è perso completamente Ed ecco che gli viene ancora in mente Questa canzone di Albertino Che cantavano poco prima Anche le borghesucce Della festa E lui Inizia col suo ricchio assoluto A trovare le note E anche Eccola che la sta suonando Non se n'è accorto Ma sta facendo una cover E la canticchia Ecco che sta facendo la cover Di questa canzone non melodica E succede una cosa strana Cioè Per la prima volta Il vocio si abbassa E tutti gli stanno dando attenzione Anche Chiara e divertita E lui Una certa Si dimentica le parole E anche la musica E quindi la sta inventando E non se n'è ancora resa conto Ma ha inventato Una canzone non melodica E Per la prima volta Nella sua vita Tutti lo stanno ascoltando Silenziosi In più Accade per puro caso Che a questa festa Una sedicente influencer Faccia un video A questo musicista di spalle Tagga Albertino Ed ecco che il video Macina migliaia e migliaia Di visualizzazioni E nel giro di una settimana Per la prima volta Della sua vita Mezza Napoli canta Canzoni di Flavio E Flavio Questa cosa non lo sa Lo scopre però Emilio Che trova il video Riconosce la voce dell'amico E si mette immediatamente Alla ricerca di questo Perché pensa Ecco forse se io riuscisse A portare Il cantante misterioso In mio locale Allora ho svoltato tutto Però quando trova A Flavio E si mette in contatto Con lui Flavio non solo Non sapeva niente del video Ma si vergogna terribilmente Si rifiuta categoricamente Perché anziché fare No melodico Preferisce Capito Smettere Scusate Ecco l'acqua che serviva Smettere di suonare per sempre Ma Emilio Con la sua Dote oratore Di un avvocato mancato Lo convince E gli dice Tu non solo diventerai ricco E famoso con la tua musica Continuerai a fare musica neomelodica Perché noi adesso Inventiamo un personaggio fettizio Cardillo Il trapper neomelodico Senza volto E quindi ecco che nasce Questo viaggio dantesco Di questi due amici Delle elementari Che attraversano Prima un inferno Fatto di Sagri di paese Matrimoni di camborristi Arrivando a un purgatorio Che si scopre Essere abitato da Etichette discografiche E social media manager Fino ad arrivare al paradiso Sanremo E quindi Questa è la serie Cardillo Un andramedi musicale Grottesco Composta da otto puntate Da trenta minuti Con linee Orizzontali Quindi la trama che va avanti E verticali Quindi episodi autoconclusivi La serie di riferimento È Atlanta Di Donald Glover Non so se la conoscete È una serie molto interessante Che è datata dell'ascesa Di questo Hip hop Rapper americano Qui però siamo nel Neomelodico napoletano E oppure Se ve la devo dire lì Immaginate Anna Montana Ma con la profondità Psicologica Di Bojack Horseman Grazie Grazie Simone Qual è il tuo cantante Neomelodico preferito? È tosta Questo punto che Dobbiamo chiedere Raffaello Perché io sono uno Della generazione Prima della trap Quindi c'è Alessio e Raffaello Che è tipo il mega duo Tipo Goku e Vegeta Ah certo Sì sì Fa ridere che si chiamano Sempre col nome proprio Quindi questa cosa Però tu mi potevi dire Michele E forse esiste un Michele Luigi E io ti avrei detto Certo Però sono poco napoletani Come i nomi Ma Alessio e Raffaello Sono quelli di Te prego crivermi Eh lo sai Non lo so questo Raffaello è Scivola quel jeans Certo Certo E Alessio Vabbè ma si viene stasera Storica Ah sì sì come no Scivola quel jeans Ma che donna sei Potrebbe partecipare Alla serie di Giulia Betti Tra l'altro Ma si viene stasera Perché lui era giovanissimo Quando faceva quella canzone Quella che c'è Tom York Che la canta C'è un video Sì c'è un video In bank e nero L'ho visto Mi pare Paul Thomas Anderson Tra l'altro assurdo Tom York Conoscesse quella canzone E va bene Hai notato come Una domanda sua Ti sto escludendo Però no Hai notato come c'è sempre Questo filo Di quelli che ce la devono fare E che non ce la fanno Sì Sì sono quelle cose Che in un talk show Direbbero tipo È una generazione Profondamente disillusa Quella che viene fuori Da questi pitch E c'è il ketchup I ragazzi Che lavorano a fast food Un musicista Che si deve fingere Un melodico Abbiamo visto Un aspirante Stand up comedian I ragazzi Devono credere di più In loro E poi muore Perché ha 87 anni E sta spiegando I giovani come vivere Tranne Cassandra Che non ha problemi Di lavoro Ma abbiamo una ragazza Preda delle sue pulsioni Più basse Nel caso di Cassandra E anche qui Servirebbe Il signore Gesù Cristo Soprattutto Si sia ripreso Dopo il tutto Un attimo Un piccolo black out Ok Senti Sì è vero comunque C'è una C'è una generazione Disillusa È il grido Di una generazione Disillusa Quindi dovremmo Un po' illuderla Perché no Cioè come funziona Quando sei disilluso Beh con i social network Però qui c'è anche Un grande discorso Qualcuno in queste storie Ce la deve fare Così Illudiamo E forse ce la facciamo Ma se unissimo Tutte queste quattro storie E ne facessimo una Visto che si svolgono Tutte nel presente Non mi sembra Di aver sentito Parlare di costumi Guerre Passate Eccetera Ne potrebbe uscire qualcosa Cioè un'unica serie Con Cassandra Con Cardillo Magari Cassandra Potrebbe essere La fidanzata del jazzista Con Melo, Saro e Turi Un sacco di gente Magari Saro Lo sacrifichiamo Dici Saro Era il più debole Di tutti Saro con questo nome Sì Non dura E Cassandra E poi vabbè Quelli di Ketchup Quelli di Ketchup Sono sempre loro Saro Adatti È Ocean's Eleven Alla fine Com'è questa cosa Che hai detto Ocean's Eleven È un modo di dire Ocean's Eleven Che significa? Il film Ocean's Twelve No, il primo è Eleven Mio film preferito Quello è il secondo Quello è il secondo Ce n'è un altro Cioè Tu non hai mai visto Ocean's Eleven No Io ho visto Ocean's Twelve C'ho il DVD C'ho il poster Prima di S12 Erano 11 Poi se ne è aggiunto uno dopo No, no, no Hai visto il terzo? Io ho visto solo il primo Ocean's Twelve Perché poi c'è Ocean's Thirteen Non l'ho visti Non l'hai vista Comunque, produttore Se c'hai proprio tanti, tanti, tanti soldi L'idea è la mia Unire Cassandra Cardillo E già Cassandra Cardillo Li facciamo diventare un nome unico Cass Cardillo 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 Che è il tipo 4D Poi Che altro abbiamo? L'intro Quello sulla battuta mia Su Matteo Rone Curi 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 E ketchup Amadeus diceva sempre a Fiorello Curi Curi Però non credo che c'entri con dei ricordi a Sanremo Sì, sì Credo perché è un modo di dire siciliano, no? Sì Allora Serie Serie da 8 puntate Da 30 minuti Perché non 30 puntate da 8 minuti? Eh, si può fare però Può essere una cosa nuova Molti la consigliano Infatti noi parleremo anche con Matteo Che ce l'ha queste trovate O 60 da 4 minuti Senti, che colonna sonora ti immagini per il tuo film? Cioè, tutti i neomelodici? Oppure, insomma Tra parentesi Ma tu immagini il potenziale commerciale di sta roba Altro che Mare Furi Cioè, proprio la colonna sonora originale di canzoni neomelodiche passano Però, ecco, no Mi sa che costano però quelle canzoni Cioè Che cosa? No, ma sono originali Le riscrivi, le fai No, no, le fai nuove Le fai tutte nuove Vabbè, a sto punto Da chi le faresti cantare queste nuove canzoni neomelodiche? Beh Chi è che Cioè, c'è un artista italiano Che vorresti misurare con la scrittura neomelodica Con l'interpretazione neomelodica Ma tu dici un cantante o un attore che deve fare Un cantante, un cantante Ma non lo so, no Mi fai queste domande adesso Una domanda Tu quando l'hai scritto Tiziano Ferro Tiziano Ferro Che fa musica neomelodica Non si è misurato un napoletano Ancora Ancora no È un momento un po' no della sua vita con Tiziano Ci siamo scritti ieri Però, appunto, un lavoro del genere Secondo me invece potrebbe ridargli quella spinta Di cui ha bisogno in questo momento Tiziano, lo saluto Oppure 24.000 puntate da un secondo Ci hai pensato per tutto sto tempo Stavo facendo un calcolo sui fotogrammi Però comunque ho sbagliato Senti Che taggia dice, come dite voi? Bene, bene Molto bella anche questa Qual è la tua preferita? Dimmi la l'orecchia Guarda 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 l'orecchia Ce n'è una che per noi è l'incitrice Senti, c'è un regalo per noi come barcaccia Che ci ha lasciato qualcosa No, sono impreparato Non me l'aspettavo Io suono il pianoforte Quello che è un Casio Sarei anche il napoletano So anche il napoletano Mi so mettere una maschera all'uopo All'uopo? Eh? Sì, sì Pensavo che l'uopo Il vestito che metto Mi mi hanno messo una maschera all'uopo All'uopo Sì Quando hai iniziato a raccontare la storia Al jazzista Col cuore nero Così ho pensato ovviamente Fosse la storia di Romano Mussolini Che lui fosse bravissimo A improvvisarla su quel momento Perché avevamo detto Infatti ho detto Ma arriva quando nasce la figlia Sì, scrive in politica Ma figo, figo Senti, va bene Fenomeno Eh, questa è una domanda interessante È vero Ci sono già stati molti anonimi Il fenomeno dei volti coperti Nella musica italiana Cioè questo è un po' un liberato nuovo Se vogliamo Vabbè, ma è ovviamente palese La referenza si è liberato Ah, quindi è palese Diciamolo apertamente No, vabbè Giovanni Ficini Alias Tanto lo tagli questa cosa No, comunque Ci sono tante storie di persone Che non mostrano il volto Ma anche mi ricordo L'inizio di Young Pop Di Sorrentino C'è tutto questo preangolo di lui Che non vuole mostrarsi Quindi comunque è una cosa Che sempre affascina Però qui Cioè Noi quello che non conosciamo Del fenomeno liberato È il perché esiste Il fenomeno liberato Cioè che motivazione c'è Di una persona che non si mostra E quindi ne nascono Mille domande Che sono molto affascinanti E a noi Noi che siamo d'altra parte Possiamo solo farci le domande Invece Con una serie Una storia del genere Possiamo fare Cioè svelare I motivi Quindi che precedono Questa cosa Rimaschera Mischeta Mischeta Sì Lo dimentico Che lei Il primo contessa Il primo contessa Con le buste di plastica Junior Kelly Sì Rey Mysterio Ogni volta Ogni volta Una ola Incredibile Basta nominarlo Junior Kelly Così Daft Punk Zollo Zollo Vero Johnny Palomba Sono tantissimi Un sacco sono Ma non mi vengono però Ma come ti vengono Abbiamo detto i cento E no altri Quanti il numero di puntate Che consiglieremo Di farti Allora Io Ti ringrazio Possiamo dedicargli Un estremo applauso Sì Grazie a voi Grazie Grazie davvero Romano Grazie Simone Simone Romano Grazie A questo punto Vi sarete fatti Un'idea Di chi vincerà È chiaro Sì C'è sempre questa cosa Che chi vede questo format Cioè Finora una puntata Gli manca il finale Con la vittoria Se il pubblico Si è troppo abituato A questa dinamica Del talent Con i buzz Invece no Secondo me Non ci devono essere Vincitori Ma vinti Giusto E poi in fondo Chi siamo noi Per stroncare Un'opera cinematografica Una serie Noi nessuno Nonostante il preambolo Con cui abbiamo iniziato Con sfacciataggine Abbiamo scherzato Sui nostri successi Che comunque Ci sono Ma Penso che Un ruolo così Crudele Possa essere Appannaggio Di qualcuno Di un professionista Con qualche mese Più di noi Di età Di lavoro Non ho mai capito Quanti anni ha più di me Non ho mai capito Matteo Rovere Quanti anni più di me Perché sempre Considerando una sorta Di coetaneo È un ragazzo Sì È giusto Io non ho mai capito Beh Forse Gli lo chiediamo Gli lo chiediamo Matteo Rovere Sul palco Ti avrei questa idea Ciao Matteo Ciao Matteo Benvenuto C'è il bicchiere Usato da tutti I ragazzi Peraltro Scusa Ho portato il telefonino Perché ho preso appunti Ah è fatto bene Ma noi possiamo Ricapitolare Qualunque cosa Sono stato molto attento Volevo fare i complimenti A Simone Per la capacità di vendita Perché ogni cosa Che diceva Lui aveva una risposta Che faceva risalire Il pitch È vero Di votazioni Esatto E qui giustamente È l'unico Che ha dato delle reference Che è una cosa Molto importante La cosa assomiglia No Bojack Horseman Meats No Si dice sempre Gli americani Lo fanno sempre Ah sì Quali sono le reference Della cosa che presentate Cioè a cosa può assomigliare Cosa può ricordare Qual è il tono Ecco vedi In effetti Questa oggi è anche un'occasione Per imparare Come si fa un pitch Giustamente Essendoci qui Matteo Questo lo diciamo Ai prossimi partecipanti Perché magari uno ha paura Chi ha sbagliato ormai ragazzi Andate Fuori No perché magari Una volta ha paura Di dire le reference Perché poi dicono Ah stai copiando È arrivato Sì Oppure se ti piacerebbe Essere Atalanta The Office Le cose che uno cita No anche The Office è stato citato Se non sbaglio Dal più citato Barchaccia Dal Barchaccia Dal Barchaccia Barchaccia È scevincitore È Mengoni Di questa edizione Sì Mi spiace Perché quando uno arriva E Simone ha dato anche il formato Che è un'altra cosa importante Perché a livello di vendita Poi il formato Fa un po' capire Dove possiamo andarla a mettere Se è un 30 Quindi ricorda un po' Le vettiche sitcom Quindi il tono è un po' Il comedy Se invece è un 50 Insomma quello è un po' È di po' Ho finito Non è nient'altro da dire Quindi abbiamo un favorito Mi sembra di capire Che abbiamo già un favorito Mi spiace Per Cassandra e Ketchup Perché saranno dei ricordi Dei ricordi e basta Queste idee Che poi magari da 20 anni Uno con un'idea simile Ma già non l'ho sentito No Non l'hai sentito da nessuna parte È impossibile No no Invece Che interessante Cioè quindi esistono Cioè 50 minuti Che cos'è Non esistono serie comedy Di 50 minuti È più difficile Cioè il 30 Tendenzialmente Per ragioni storiche Deriva dalla vecchia sitcom No E quindi ha quel formato Che è legato un po' Al comedy Il formato breve Anche una fruizione più rapida Poi adesso con gli streamer Tendiamo a vedere Tante serie anche brevi Che invece sono di genere Un po' come per esempio No Non so se The Bear Potrebbe ricordare Una serie Disney Potrebbe ricordare Ketchup Da un certo punto Io non ho visto The Bear Ma la mia non vuole essere Un'accusa però Non vuole No no Per carità Diciamo che insomma Ecco per esempio Serie con l'unità di luogo Tendenzialmente Sono dei 30 Storicamente Unità di luogo Significa che si svolgono Principalmente in un posto E hanno un ambiente Diciamo che le accomuna Io Diciamo sui pitch Poi se volete Li commentiamo O no O sì Ma vediamo Ma come credi Tanto tagliamo Però diciamo Che la Microfoni aperti No la cosa che si sente tanto È che c'è tanto Forse troppo elemento autobiografico Cioè sono tanto serie Che raccontano I loro autori Quindi Tendenzialmente Tutte parlano di ragazzi Dell'età di chi le ha scritte E hanno forti elementi Che sono legati A chi Al mondo Che circonda Le autrice E gli autori Questo forse a volte Lo dico rispetto alla Fantasia di chi scrive Può essere Un limite Cioè non so se L'autore Di Lost Ha vissuto Quell'esperienza Tu quando hai fatto Il primo re Su Romolo e Remo Non c'era qualcosa Della tua vita No magari c'era Valero C'era tanto Della mia vita Ma traslato In un racconto Che non aveva Nessuna similitudine Lo dico perché C'è il rischio poi Che Sennò questi pitch Si assomigliano un po' Tutti Infatti ho trovato fertile La tua idea Di Di farle Tutti insieme E però quando si dice Scrivi di quello che conosci Tu dici che bisogna Secondo me Scrivi di quello che conosci Però Non voglio mettere Nessuna Non ho nessuna soluzione Non ne so più di voi Però Scrivi di quello che conosci Traslandolo In un qualcosa Che è Come dire Che parte da quei temi E poi forse Li racconta anche Con un altro strumento Dove potremmo ambientare Ketchup Allora in questo caso Perché andrebbe traslato Questo lo dico Perché Barcaccia ha scritto Circa tutti quanti I pitch Che abbiamo sentito oggi Quindi mi andava Di mettergli un po' di tensione Perché è già il super favorito Di oggi Diceva Luigi Che eravano ricevuto 800 pitch Di cui Barcaccia 7,50 Barcaccia 7,50 Barcaccia è il gran visir Del cinema italiano Già adesso Ha dei collegamenti Gli hanno fatto un monumento A Piazza di Spagna Lo sai Ho saputo La sua importanza Data la sua importanza Sì Era nell'aria Era nell'aria Era nell'aria Già nel 600 Sì Già sapevano Tra l'altro Un'altra riflessione È che sono un po' Tutti e quattro pitch Che hanno come target La stessa età Di chi li propone Quindi qual è il target Forse il target È quello Diciamo Dei ragazzi Comunque la televisione Che era limitata A 5-6 canali Parlo di un tempo Neanche troppo remoto Magari era più facile Che qualcosa fosse per tutti Mentre adesso si tende a essere Molto settoriali E quindi ci sono film Che parlano di argomenti Che magari interessano A una piccolissima Ma comunque fertile Fetta di pubblico Ed è sempre più difficile Trovare una cosa Che accontenti tutti Anche perché Magari i canali di produzione Si sono Frammentati Diciamo che c'è C'è un fenomeno Legato ai consumi Che racconta In maniera molto chiara Ci sono tanti studi Su questo Che determinate fasce Di pubblico Utilizzano certi media Certi strumenti Per esempio Ci potrebbero essere Delle trasmissioni televisive Molto divertenti Che hanno avuto più successo Sullo streaming E qualcosa in meno Magari nella televisione Lineare Perché magari Il pubblico di riferimento È diverso Magari ha altre abitudini Abbiamo molti casi Per esempio Mi vengono in mente No però magari No uno C'era questa Che c'era stata Però neanche me la ricordo bene Qual era? State parlando di una cosa vostra Che nessuno di te conosce No no Stasera tutto è possibile No no Penso che ho capito Era una piccola Punzecchiata Che mi ha voluto fare No al contrario No 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 Scherzo È proprio il complimento Di aver intercettato Un pubblico Molto ampio E molto specifico Che consuma Un media Particolare Cioè che Per esempio Anche rispetto a una serie Che è stata citata prima Che è Mare Fuori Si sa che Quando è andata Nel suo passaggio lineare Quindi nella televisione Generalista Sulla Rai Non è andata bene Come poi Nei suoi passaggi In streaming Su Rai Play E su Netflix Però forse anche avvantaggiati Non è che sto contestando È proprio una cosa Che mi pongo Forse sono avvantaggiati Sia l'esempio Che hai fatto prima Sobillato Sia quello di Mare Fuori Che sono Magari su più puntate Riescono a convincere meglio Rispetto al trailer Al film Questo film parla di E quindi già Una parte del pubblico Dice Ah no Non ho l'età Per quella cosa Non è il mio Cioè non lo so Potrebbe aiutare Forse lo streaming Il passaparola E alcune cose Sono più propense A essere passaparolate Come si dice Assolutamente sì Però è vero anche Che partire da un target Di riferimento Permette poi di ampliare Perché il passaparola Che è un fenomeno Che viene citato Per i film al cinema Esiste assolutamente Soprattutto con l'avvento Dello streaming Che propone tantissimo prodotto Esiste assolutamente Anche per quelli Che sono i prodotti Appunto Attuali E quindi l'idea Di avere un target specifico Che magari è un target Più stretto Però può far partire Quel percorso È sicuramente vincente Non esistono più I film per famiglie Secondo te Cioè quelle commedie Degli anni 90 No esistono Ma ci sono Adesso diciamo I film per famiglie Si sono un po' abbassati Di target età Perché si parla proprio Di film Diciamo Per fasce scolari O prescolari Ci sono dei fenomeni Che riguardano proprio Il fenomeno di moltiplicazione Dei biglietti Perché chiaramente Un bambino piccolo Deve essere accompagnato Da qualcuno E questo crea Un moltiplicatore Evidente Che è studiato E che è analizzato Però allo stesso tempo Forse Riflettere Quando si inventa E si scrive Su come poi Questa idea Può differenziarsi Anche da qualcosa Che ci viene proposto E quale può essere L'elemento di unicità Di novità Che l'idea ha Secondo me È una cosa importante E nei pitch Ho sentito Molto Qualcosa Che parlava Dell'autrice O degli autori E un po' Meno l'idea Di come poi Questa cosa Possa traslare Detto questo Ci sono tantissime Seri di successo Che hanno elementi Fortemente personali Che poi In qualche misura Comunque riescono Allargare Per la qualità Speriamo che siano Queste Cioè speriamo Che siano anche Loro così Però sì Proprio darsi Francesco Ha già una trilogia Francesco Barcaccia No Traina Ah Traina Pensavo a me Penso solo a lui L'abbiamo C'era Barcaccia Convolto nel pitch Di Traina Ah sì Infatti Sì 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 Ma è stata Semplicemente Aveva la colpa Di aver scritto Qualcos'altro Sì Subito bullizzato In maniera Fintamente Elogiante Elogiante Sì E lo dì Allora A noi fanno sempre La stessa domanda In tantissime occasioni Che cosa ne pensi Del politicamente corretto Voglio fare una domanda Che anche a te Fanno sempre Dove sta andando Il cinema italiano In questo momento Puoi anche non rispondere Ok Non c'è bisogno No diciamo Non lo so Non lo so Nel senso che Servono spazi Come anche può essere Questo Come può essere Il Giffoni Come il mio In questo momento Dove siamo ospitati Che proseguono anche A costruire il rapporto Fra una generazione Che magari Si affaccia Alla conoscenza Del cinema E magari Insomma Generazioni che fanno Un po' più fatica Perché dobbiamo Fare attenzione A non far uscire Il cinema Inteso come Sala cinematografica Questo luogo bellissimo Dove siamo Dalle nostre Tra virgolette Opzioni di serata Perché quando eravamo piccoli Che stavamo lì in D Ci andavamo ogni tanto Al cinema Certo in D Ci andavamo Venerdì Sabato Andavamo a quei cinema Lì vicino Alla nostra scuola No però Invece Si registra un po' Una crisi Del teatrical E su quello Che sarebbero appunto I cinema E su quello Bisogna un po' insistere Quindi ogni volta Che andate a vedere Un film State facendo qualcosa Di bello Soprattutto per voi E quindi insomma È una cultura Da diffondere È proprio la risposta Che noi diamo Quando ci chiedono Cosa ne pensi Del politicamente corretto Diciamo la stessa cosa Identica Bene Vogliamo ringraziare tutti Si O un generale Ringraziamo Giffoni Nonché Luigi Sales Nella figura di Luigi Sales Mia Che non è una mostra Caro il mio Edoardo Ma è Altro È il mercato internazionale Dell'audiovisivo Sì Andrea Barcaccia Con ketchup Andrea Barcaccia Con una ragazza leggera Andrea Barcaccia Giulia Betti Giulia Betti Non la ragazza leggera Ma l'autrice L'autrice Dell'omonima serie tv Sì Barcaccia Adesso penso Associato una ragazza pesante A una barca Eccola là E di questo Mi amareggio Non ero io Neanche il termine Nave scuola Che può essere associato Al fatto che lei Poi vada con tutti Quelli della sua scuola Anche questa è un'idea tua E non mia Mi è stata messa in cervello Noi volevamo fare Avrei queste idee al Sunday Io ho fatto tutto questo Per andare soltanto lì E invece non si fa più Quindi una ragazza leggera Giulia Betti Che ringraziamo L'autrice Francesco Traina Con Ciuri 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 Nonché Simone Romano Con Cardillo Cardillo Ringraziamo moltissimo Matteo Rovere Per aver partecipato Grazie a voi Per portare il suo punto di vista Di produttore Grazie Matteo Noi ci vediamo Ringraziamo il Cinema Barberini Ringraziamo il Cinema Barberini Dove abbiamo visto Speed 2 Mamma ha perso l'aereo Mamma ha preso il Bon B L'ho visto qua Ok E tanti altri Io ci ho visto Jurassic Park Bello Senti che ci ho visto io Dick Tracy Ah Dick Tracy Bellissimo Forse uno dei migliori adattamenti Di un fumetto al cinema Secondo Non so A te è piaciuto? Sì Era molto piccolo Era molto piccolo Siamo tutti d'accordo Dai buonanotte Grazie Ci sentiamo Alla prossima Grazie Ciao E ringraziamo Tahir Tahir Grazie Tahir Grazie a tutti